Prevenzione, salute, sport e tanto divertimento. È ciò con cui i più piccoli potranno confrontarsi domenica 24 marzo nell'ambito della seconda edizione della Festa dei Bambini organizzata dal Calcita, l'Arezzo Fiere e Congressi. È un momento importante, non è un momento unico nel senso che segna comunque una abitudine molto positiva che Arezzo ha, che è quella di farsi una città comunità rispetto ai temi che hanno a che fare con la prevenzione, con la salute e con la consapevolezza. Castiglioni accoglie e sposa questa iniziativa di coinvolgimento, sensibilizzazione e prevenzione, quindi apriamo oltre che a questa dove parteciperemo con le nostre associazioni, la scuola di danza, ma anche apriamo alle future iniziative che possono essere fatte in collaborazione con il capoluogo ma soprattutto con il Calcit. Ma non solo, nel ricco calendario del Comitato Aretino, anche la nona edizione del Mercatino in Danza dedicata quest'anno alla memoria di Carlo Benucci è il Galà Calcit Otello Bracci. Questa tre giorni che si sviluppa appunto su tre serate sono dedicate alla danza, con una grande partecipazione, si parla di oltre 500 ballerini e più di 14 scuole del nostro territorio. E poi con questo evento di domenica che abbiamo chiamato Festa dei Bambini che ha un obiettivo preciso, quello di promuovere i corretti stili di vita in modo che i nostri bambini e le nostre bambine possano apprendere e poi ovviamente comportarsi di conseguenza nel loro percorso di vita. Grazie a tutti.